Ciao a tutti, vediamo 10 caratteristiche del segno della Vergine. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Allora, vediamo le 10 caratteristiche fondamentali del segno della Vergine. Prima è la capacità di focalizzare l'attenzione. Le persone del segno della Vergine hanno una buonissima capacità di focalizzare l'attenzione, di analizzare una situazione, la situazione sulla quale fanno un focus in tutti i dettagli, quindi hanno veramente una buona capacità di analisi. La seconda caratteristica fondamentale è la razionalità. Le persone della Vergine sono iperrazionali, è il segno più razionale dello Zodiaco e quindi valutano tutto attraverso la ragione. La ragione, il positivismo, diciamo così, la filosofia della ragione è alla base del loro essere. Sono spesso persone iperlogiche che hanno bisogno di una motivazione per essere spinti, diciamo così, all'azione. Poi un'altra caratteristica molto importante del segno della Vergine, una terza caratteristica è la praticità. Il segno della Vergine è pragmatico, reale, realista, nessuno è più realista del segno della Vergine. È molto poco idealista, ma diciamo l'idealismo è al top. La quarta caratteristica è la capacità di schedulazione, cioè sanno organizzarsi un po' quello che nel punto di vista dell'Enneagramma rappresenta il tipo 3. Hanno una capacità di pianificare e amano le giornate fatte di routine pianificate, evento dopo evento. La quinta caratteristica è la sincerità. Le persone della Vergine sono comunque sincere e se non hanno motivazioni particolari tendono a non mentire. Sesta caratteristica è la modestia. Le persone della Vergine, a differenza ad esempio di quelle del Leone, sono sobrie, sono modeste, non cercano di sobrie, modeste, comunque non vogliono manifestare pubblicamente, diciamo così, le loro capacità. La settima caratteristica è la riservatezza. Le persone della Vergine tendono a non divulgare all'esterno quelle che sono le loro relazioni, ad esempio da un punto di vista sentimentale, affettivo, tendono molto a secretare, tendono a tenere nascoste, non manifestano pubblicamente quelle che sono le loro cose più importanti. L'ottavo, l'ottava caratteristica è la diligenza. Sono persone che sono diligenti, che tentano di immedesimarsi nel fare le cose, quindi lavorano molto su quello che vogliono raggiungere come obiettivo. La nona caratteristica è il perfezionismo. Le persone della Vergine sono perfezioniste, non fanno le cose così come accade, ma proprio le lavorano molto affinché possano essere perfette, perfette secondo la loro ottica ovviamente. E la decima caratteristica è l'affidabilità barra lealtà. Le persone della Vergine quando prendono un impegno lo rispettano. Quindi sono persone affidabili e la fiducia è una qualità che apprezzano molto anche negli altri. Non tollerano persone che magari dicono una cosa e poi non la rispettano. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!